Salve ragazzi, sono LionFair e questa è la seconda parte del tutorial di Italia. Dopo aver aumentato i campi a livello 1, uno per tipo, dobbiamo fare un'altra missione. Dobbiamo cercare il villaggio di Prozac e trovare le coordinate e metterle qui. Quindi, Statistica, Villaggio e qui inseriamo il nome del gettato della terra. Giusto? Ecco. Le coordinate sono meno 109 e meno 51. Ok. Questa missione era di cambiare la produzione oraria delle rue. Io ve l'avevo già fatta vedere. Quindi ho già dato la missione con questi. Qui leggere proprio l'avventura. In realtà il nostro è tornato dall'avventura. E ha avuto 16 di esperienza, meno 3 punti di salute e al bottino sono 3 palangi che sono delle truppe. Ora. Ma dalle rue non è un'altra avventura. Orca. Che cazzo c'è? Oddio. Esspondi tutte le risorse a livello 1. Bene. Ora iniziano le talle. Dobbiamo espondere tutto, 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 a livello 1. Quindi il mio account plus è anche finito, quindi, ah no, ce l'ho, me l'ha regalato prima. Perfetto. Allora, ora già che stiamo, visto che è ormai è finito perché mi ha chiesto di fare un piccolo video di missione, modifichiamo l'aspetto dell'errore. Si può scegliere tra maschio e femmina, la mia non sono la stessura, quella di femmina è un gioco, invece è fatto l'unico, ma lo che è brutto, la testa, ma lo che è brutto, la testa, ma lo che è brutto, diciamo, colore dei capelli. Ho sc hi, mamma mia, cumbo. O mio Dio. che schifo no vabbè facciamo qua diciamo ah lì a chi va di comune ora che bruciera questo bocca oh mio dio ok ora va meglio si traccivi la concessione ecco non lo voglio prendere ah così non è male allora per oggi è finito non ho durato un cazzo solo perché devo spendere questi cuci qua come ho già questi coglioni e vabbè allora alla prossima arrivederci a tutti